Cari amici, social follower, ben ritrovati dal vostro deluxe. Oggi anche si vede dal mio abbilamento Lakers No. 8, ovvero Kobe Bryant. Quindi parliamo di NBA, la massima competizione, possiamo dire, una delle massime competizioni più spettacolari e intriganti del continente, come per esempio l'Eurolega, il Mondiale, l'Olimpiade. Va bene, la caccia ai Celtics partirà ufficialmente il 22 ottobre, si chiuderà la regola a Siso il 13 aprile. Le sfide del play-in andranno in scena dal 15 al 19 aprile 2025. La sera italiana del 19 aprile prenderanno il via i play-off. La NBA Cup denominata quest'anno Emirates NBA Cup si svolgerà il 12 novembre, fase iniziale, è appunto fase iniziale che si concluderà il 3 novembre, quarti di finale l'11 e il 12 dicembre in casa delle squadre meglio qualificate, Final Four nuovamente a Las Vegas dal 14 al 17 dicembre. La inaugural Open Night, ovviamente ci saranno i campioni in carica del 2024, Boston Celtics che ospiteranno in casa New York Knicks con la tradizionale cerimonia di consigna degli anelli vinti nella scorsa stagione mediante appunto le final play-off dei Boston Celtics. L'altra sfida di quella seata barra nottata italiana sarà l'Akers dal Timberwolves. Il debutto di Paul George con i Sixers avverrà tra il 23 e il 24 ottobre, sfida tra i Sixers e i Bucks. La prima partita nel nuovo palazzetto dei Clippers andrà in scena il 23 ottobre, dove appunto ci saranno da una parte i Clippers e dall'altra i Phoenix Suns. Per quanto riguarda, diciamo, le gare in esterna, per esempio il 2 novembre si vuole a Città del Messico per l'immancabile sfida d'oltre confine. Ad animare la serata saranno i Washington Wizards e i Miami Heat. Poi vediamo il derby di New York che praticamente ci sarà la prima volta il 15 novembre e poi subito di nuovo il 17. nuovo capitolo dopo Parigi per Wayne Banyam e Stephen Curry San Antonio e Golden State il 23 novembre è l'immancabile, incommensurabile, straordinario, eccezionale, stupefacente, ovviamente in senso positivo. Christmas Day dove ci saranno queste partite New York Knicks e San Antonio Spurs alle ore 18 italiane Davos, Mavericks, Minnesota, Timberwolves ore 20 e 30 italiane Boston Celtics, Philadelphia 76 ore 23 italiane nella notte italiane tra il 25 e il 26 Golden State Warriors Los Angeles Lakers alle 2 colazione con i Cornetti e Capuccino Phoenix Suns Denver Nags alle 4 e mezzo Bene, quindi che dire che la NBA che è già iniziata con la sua pre-season ovviamente la tendiamo trepidante, molto in maniera trepidante e sicuramente sarà una stagione come tutte le altre piena di emozioni avvicendevoli poi senza dimenticare ovviamente anche l'All Star Game, gara delle schiacciate, gara del tiro da tre esibizioni, spettacolo e quant'altro Bene, noi ci vediamo nel prossimo appuntamento sui solidi social Ciao, ciao Ciao Ciao